vuoi vedere che oggi le cose si fanno interessanti gt tre lettere che forse neanche in volkswagen 1976 si pensava potessero valere così tanto perché lei è pioniera del suo segmento stiamo parlando di volkswagen golf gt proprio con lei che nel 1976 ha sostanzialmente inventato un nuovo concetto di auto che è diventato poi sportiva perché ha democratizzato le performance all'epoca delegate solo alle vetture di alto livello anche su una vettura pop e l'ha fatto con una vettura a trazione anteriore molto agile e soprattutto economica per quanto riguarda il rapporto prestazioni e prezzo una vettura che abbiamo già imparato a conoscere perché è arrivata all'ottava generazione che ora è anche nella declinazione gt quindi la più potente a trazione anteriore perché qua sotto c'è un motore da 245 cavalli e 370 newton metri di coppia che scarica a terra tutta la sua potenza sull'asse anteriore un asse anteriore che integra di serie un differenziale autobloccante a controllo elettronico e di conseguenza questa macchina già inizia a essere molto interessante ma non solo perché volkswagen golf gt di ottava generazione viene completamente rivista dal punto di vista dell'architettura elettronica ed elettromeccanica e si è andato a migliorare ad affinare questa vettura in modo veramente corposo le novità sono tantissime riguardano il motore riguardano le sospensioni riguardano la dinamica del veicolo e direi proprio di iniziare a raccontarvi un po questa macchina ma prima di tutto vorrei partire dal punto di vista estetico perché golf rimane fedele a se stessa quindi delle forme che tendono a piacere e non azzardare troppo un linguaggio stilistico come magari stanno facendo molti competitor in questo segmento una vettura che come esattamente golf normale golf 8 ha un frontale molto carino molto affusolato con questo gruppo ottico in tecnica led iniziamo a vedere due elementi distintivi innanzitutto la linea rossa che parte da sopra il faro attraversa tutta la parte centrale si ricongiunge con l'altro gruppo ottico che non solo ha questa linea rossa che va a richiamare il passato ma è completamente illuminato quindi abbiamo un dettaglio inedito già qua nella parte alta completamente illuminato mentre nella parte inferiore guardate che bella tutta questa griglia che ha nido d'ape con questa x a led al posto defendi nebbio opzionale molto bella però guardate come golf non vuole azzardare nelle forme infatti tutti questi elementi non sono molto pronunciati anche lo spoilerino non esce molto è una vettura che vuole rimanere non anonima ma vuole rimanere estremamente concreta è una vettura che quindi dal punto di vista estetico si differenzia per questo lavoro che c'è nella parte anteriore della macchina ma si differenzia anche per alcuni dettagli non solo come ai cerchi la pinza freno che è a pugno vernissata di rosso i loghi badge gt ma anche per degli spoilerini qua davanti poco pronunciati che però continuano sulla fiancata e vengono ripresi da questa minigonna inferiore che arriva poi anche al diffusore posteriore la fiancata rimane pressoché identica al modello di base c'è ovviamente uno spoilerino gt che è diverso dalla versione normale diffusore qua dietro che integra il doppio terminale discarico cromato guardate che carino e tra l'altro fa anche un bel suono da fuori quindi non è tanto sordo e questa cosa mi piace assai nella parte posteriore sotto il logo volkswagen c'è la bellissima scritta gt molto concreta molto bella ma non perdiamo tanto tempo a parlare dell'estetica di quest'auto perché la possiamo vedere in realtà già la conosciamo ma parliamo del lavoro che hanno fatto gli ingegneri volkswagen che riprenderò anche alla guida allora cambia tutto nel senso che il motore a 245 cavalli 375 nitometri di coppia a 370 nitometri di coppia a partire da 1600 giri minuto unità che in realtà conosciamo già ma che è stata rivista sotto il punto di vista dell'iniezione perché ora l'iniezione diretta di carburante lavora a 350 atmosfere e di conseguenza è possibile ridurre le emissioni inquinanti quindi questa qua è una vettura compliant con gli standard euro che entreranno in vigore l'anno prossimo quindi una macchina che non rinuncia alle prestazioni che aveva già l'anno scorso ma che ora è anche letteralmente a prova di futuro vedete come in realtà qua dentro c'è veramente tanta roba perché tutto lo spazio è occupato da componenti elettroniche e vi ricordo che qua sotto c'è un differenziale autobloccante a controllo elettronico in buona tradizione gt un differenziale autobloccante a controllo elettronico che quindi non è differenziale meccanico come ad esempio il torsen e di conseguenza lavorando con un gruppo di frizioni riesce a spostare fino al 100 per cento della coppia o da una ruota dall'altra ovviamente poi lavora in sinergia con i controlli della vettura controlli della vettura che sono stati completamente stravolti perché c'è un nuovo motore e per motore intendo centralina di gestione della dinamica del veicolo che monitora 200 volte al secondo tutto quello che succede sulla vettura a livello di trazione a livello di ammortizzatori pensate che riesce a calcolare istantaneamente che cosa sta succedendo su che tipo di terreno si sta trovando la vettura riesce addirittura ad anticipare le perdite di trazione e riesce a ricevere feedback da ogni componente dell'auto dallo sterzo dall'acceleratore dai freni tutto il resto per lavorare in sinergia con il controllo di stabilità dell'auto per ricercare appunto la performance quindi non solo tarando il differenziale autobloccante anteriore ma anche lavorando di freni su tutta l'auto una macchina che è stata affinata anche sotto il punto di vista delle sospensioni perché rimangono dei mac person qua davanti e dei multi link qua dietro ma tutta la struttura dell'amortizzatore per quanto riguarda quello anteriore mi riferisco tutto al triangolo inferiore che poi fa da base al mac person che c'è sopra è stato irrigidito di conseguenza l'amortizzatore anzi tutto il gruppo sospensione scusate riesce ad essere molto più rigido riesce a lavorare meglio e davanti è stato irrigidito del 5 per cento dietro del 15 per cento e questo si traduce in una precisione durante la guida inedita quindi una vettura che letteralmente si guida il 15 per cento meglio ed è il 15 per cento più precisa rispetto alla generazione precedente un'auto che monta in questo caso dei cerchi da 19 pollici con una spalla bassissima che vanno ad accentuare poi tutti i feedback sullo sterzo che è stato rivisto anche in sé quindi abbiamo un nuovo gruppo sterzante o meglio un nuovo meccanismo per quanto riguarda la parte interna sulla cremagliera che va a dare una direzionalità allo sterzo diversa rispetto alla generazione precedente che risponde in maniera diversa lo sterzo è veramente molto diretto con un grado di 14 a 1 quindi veramente molto diretto e soprattutto non è lineare o meglio risponde in modo diverso rispetto al grado di sterzo che diamo nella parte centrale sarà un attimino più neutro e poi mano a mano diventa sempre più progressivo ed è una bellissima sensazione che non va a mitigare tutti i feedback che posso ricevere dalla corona del volante per quanto riguarda invece gli interni dell'auto ovviamente è cambiato tutto ma gli interni li conosciamo perché sono quelli di golf di ottava generazione quindi tutto molto più pulito nuovi sistemi infotelematici quadro strumenti digitale display proiettato sul parabrezza un nuovo sistema infotelematico un nuovo bottone start and stop che vedete come pulsa come se fosse il battito di un cuore per accendere la vettura nuovo leveraggio by wire del cambio di sg a 7 rapporti mi sono dimenticato di parlare del cambio questa vettura arriva inizialmente con il cambio di sg a 7 rapporti forse in italia arriverà anche il manuale in germania c'è già è già possibile ordinarlo di sg 7 rapporti quindi by wire tutto il tunnel centrale che già conosciamo ma soprattutto quello che la differenza della golf normale è ovviamente il sedile di tipo contenitivo molto bello con questi fianchetti pronunciati danno un ottimo supporto la parte centrale riesce a dare un ottimo comfort alla spina dorsale il volante completamente rivisto guardate che bello questa unità mi è piaciuta davvero tanto è vero mi è piaciuta perché oggettivamente il gruppo sterzo di questa macchina lavora bene ma mi è piaciuto perché è anche molto bello dal punto di vista del disegno guardate sulle razze tutti i comandi soft touch illuminati insomma è davvero una bella unità all'interno dell'abitacolo poi le novità non finiscono semplicemente al volante ma guardate in questo momento dove ci sono tutti i display accesi che cosa ho davanti a me ho davanti a me ovviamente un bellissimo quadro strumenti personalizzato gt lo vedete dalle grafiche rispetto a quello normale ho davanti a me anche un ed up display che non so se riuscite a intravedere in questo momento sempre a colori e mi mostra sia informazioni per quanto riguarda la guida assistita dell'auto sia per quanto riguarda le funzioni di navigazione ed eventualmente anche quelle multimediali nella parte centrale un nuovo sistema infotelematico completamente riprogettato di ultima generazione che mi dà accesso a tutte le funzioni più importanti che sono quelle di guida assistita dove posso andare a impostare tutte le funzioni delle q drive in modo selettivo posso andare a modificare ogni parametro dell'auto e ci sono veramente tantissime funzioni vi rimando di nuovo vi invito di nuovo a vedere il video di approfondimento della golf photo dove vengono spiegate meglio tutte queste cose e vi faccio vedere qua e poi ve lo farò vedere anche la guida tutta la parte di gestione delle modalità di guida ovviamente ci sono le classiche eco comfort e sport qua ovviamente mi sono dimenticato potete farvelo vedere ci sono tutti i comandi soft touch per quanto riguarda la climatizzazione vedete qua che è bizzona e appena vado a sfirare ovviamente interviene l'interfaccia della temperatura della climatizzazione comunque ritornando a noi per quanto riguarda le modalità di guida ho le tre classiche ma poi questa cosa è molto curiosa perché andando in individual e andando a modificare poi tutti i parametri della modalità di guida individual vedete se ne sono davvero tanti io posso andare ad attuare un tuning veramente molto fine su tutti quelli che sono i parametri per dire questo qua è il setup comfort della vettura e questo sarebbe stato lo sport in realtà posso andare a selezionare in modo millimetrico il profilo dell'auto e soprattutto la cosa ancora più interessante sia per chi vuole una vettura estremamente comoda una vettura estremamente performante posso andare ben oltre quello che sarebbe lo standard dello sport addirittura mettendo di tre gradi in più rispetto allo sport ho una vettura le cui sospensioni rispondono in modo ancora più rigido posso avere una vettura ancora più nervosa alla guida è una vettura che esalta ancora di più tutte le sensazioni quando vado intervenire sull'auto e sui comandi dell'auto perché ha un'erogazione completamente diversa quindi un gt che grazie a questa regolazione riesce ad essere ancora più rigida ancora più performante della generazione precedente poi vi faccio vedere anche il controllo delle luci diurne che ho sempre in touch nella parte sinistra ovviamente il volante che vi ho già fatto vedere griffato gt molto bello tutta la parte del tunnel centrale tutto sommato molto stretta bella mi piace questo leveraggio anzi questo sistema by wire tutta la parte centrale della plancia che ha richiama sempre questa trama esagonale che abbiamo visto anche davanti per quanto riguarda la parte frontale dell'auto e vi faccio vedere anche nella zona posteriore che cosa cambia in realtà nella zona posteriore cambia poco nulla perché non essendoci i sedili sportivi è tutto molto simile alla versione base di spazio ce n'è il clima è a trizona perché posso controllare anche qua dietro la climatizzazione per il resto è la golf che conosciamo una vettura che però vorrei raccontarvi alla guida perché è davvero lì che si apprezza il meglio che ad offrire questa ottava generazione di golf gt quindi cacciamoci dentro l'abitacolo e guidiamo ed è la guida che bisogna provarla quindi giù tutto l'acceleratore e vediamo un po' come va questa vettura è intervenuto il controllo di trazione e la vettura mi lancia da 0 a 100 km orari in appena 6,3 secondi davvero questa macchina ha il motore come cuore caldo e pulsante della sua esperienza di guida perché è un motore che in realtà già conosciamo 245 cavalli è la potenza che già aveva nella generazione 7 di golf in questo caso questa potenza è scaricata a terra in modo ancora migliore quindi sembra di avere più potenza non fermiamoci al semplice numero sullo 0 a 100 coperto in 6,3 secondi perché è limitato dalla trazione anteriore dell'auto che inevitabilmente va a pattinare ma quando siamo in marcia e quando andiamo a vedere un po' la ripresa dell'auto ci rendiamo conto che questo motore ha davvero tanta schiena ed è super coppioso molto sfruttabile da 1600 giri entra in regime di massima coppia di conseguenza inizia a diventare molto sfruttabile arrivando fino a 7000 giri un'unità motore che mi piace e spinge bene l'auto però più cavalli più di 250 cavalli su una trazione anteriore no sarebbero veramente troppi e invece sfruttare al meglio la potenza di questo 2000 turbo benzina è la scelta giusta e come si sfrutta al meglio la potenza di questo 2000 turbo benzina beh attraverso l'utilizzo di un differenziale autobloccante a controllo elettronico quindi non un differenziale autobloccante meccanico come ad esempio un torsen che sarebbe limitato nello spostamento di coppia da una percentuale di solito per utilizzi stradali stiamo parlando di un trasferimento fino al 35 fino al 40 per cento ma che riesce a trasferire e a spostare da una parte all'altra fino al 100 per cento di coppia su una singola ruota questo in abbinamento al nuovo sistema di controllo elettronico al nuovo cervello nelle nuove centraline al nuovo sistema elettromeccanico che controlla 200 volte al secondo che cosa sta succedendo all'auto permette di scaricare a terra sempre tutta la potenza disponibile e di avere delle performance veramente tanto elevate io azzarderei e non è un numero così alto che questa vettura va un buon 15 per cento più veloce ed è un 15 per cento più efficace rispetto alla generazione precedente non solo appunto per la sua capacità di scaricare a terra la potenza ma per tutti gli affinamenti che sono stati fatti a livello di telaio sospensioni perché le sospensioni sono state riprogettate tutto il supporto delle sospensioni tutti i bracci inferiori sono stati rinforzati di conseguenza abbiamo delle sospensioni delle sospensioni che rispondono in modo ancora più immediato e questo permette alla vettura di essere molto molto più affilata e ce ne accorgiamo nei cambi di direzione ce ne accorgiamo perché questa nuova generazione di golf e questa è una cosa molto molto bella va ad accentuare sempre di più un go kart feeling che solitamente è un nome che si accosta da altri produttori che magari hanno perso un po' questa cosa lei invece di generazione in generazione si affila sempre di più e questa cosa mi piace davvero tanto si affila sempre di più dico questa cosa perché ce ne accorgiamo dalle sensazioni che ci dà lo sterzo alle nostre richieste uno sterzo che è stato ultimamente migliorato e lo è stato migliorato è stato migliorato nella sostanza anzi nella pratica perché se ha proprio lavorato sulla cremagliera per dare allo sterzo un movimento variabile non è omogeneo quindi i primi angoli di sterzate in realtà non intervengono tanto non muovono tanto le ruote poi diventa progressivo e inizia a diventare molto più corposo sono riusciti a trovare una taratura ideale un movimento ideale dello sterzo che riesce sostanzialmente in questo movimento quindi senza andare a spostare le mani a coprire tutte le condizioni di utilizzo banalmente anche in città anche su una rotonda e invece in percorrenza riesce a dare allo sterzo un comportamento ottimo perché non ci sono zone vuote non ci sono punti morti e c'è sempre questo sterzo molto corposo molto diretto è a 14 gradi a 1 quindi davvero molto molto buono su una vettura che riesce ad essere estremamente affilata sembra un piccolo squalo questa golf gt e poi il controllo elettronico che è cambiato totalmente da un'anima completamente diversa la vettura ve lo stavo facendo vedere prima nel video degli interni e ora ce l'ho qua davanti se prima le regolazioni potevano essere su tre livelli quindi comfort standard sport magari c'era una versione più sportiva beh ora sono infinite non infiniti ma diciamo che possono muoversi su ben 15 livelli lo vedete qua sul sistema infotelematico principale dove sto andando a regolare nella modalità individual tutti i parametri della vettura perché se prima io selezionavo comfort o selezionavo sport la vettura si fermava su questi livelli di trattura beh ora non solo ho una regolazione intermedia millimetrica di quello che è il comportamento della vettura ma posso andare ben oltre quello che è lo sport addirittura aumentando di tre livelli oltre quello che sarebbe stata la normale trattura sport ad esempio di golf gt di settima generazione di conseguenza la vettura diventa ancora più affilata ancora più rigida questo perché anche gli ammortizzatori sono a controllo elettronico e vanno sempre a collaborare con il nuovo sistema di gestione dinamica del veicolo che posso andare a richiamare sempre dai pulsanti soft touch che ho qua nella zona centrale della plancia e che rendono questa vettura un piccolo gioiello tecnologico qua ci si rende veramente conto di come la tecnologia fine applicata a una vettura riesca a migliorarne la dinamica quindi benvenga la tecnologia in vettura se di questo livello perché golf gt si guida estremamente bene non ho trovato criticità anche perché è stata migliorata velocità di percorrenza di curva golf gt a parità di velocità di percorrenza di curva riesce a viaggiare con tre chilometri orari di velocità in più la percorrenza e riesce a avere quindi limiti più alti riesce ad effettuare un test che è quello che prevede dei coni distanziati da 18 metri uno dall'altro facendo lo slalom a 4 chilometri orari di velocità in più ed è una golf che risponde in modo millimetrico tutte le mie richieste e mi sta piacendo veramente tanto perché è una vettura che è capace di farci divertire altri due accenni sulla tecnica che c'è dietro a questa capacità della vettura di muoversi bene e apro e chiudo la parentesi è stato letteralmente azzerato il sottosterzo non solo grazie al lavoro che è stato fatto sulle sospensioni a livello fisico ma anche grazie appunto alla nuova interpretazione di tutti i comportamenti dell'auto e alla gestione alla mitigazione di vari fenomeni grazie appunto alla differenza autobloccante là davanti che evita il sottosterzo facendo un perno creando un momento angolare sull'asse anteriore ma anche grazie all'intervento congiunto del sistema di controllo di stabilità perché quando andiamo ad effettuare magari una curva in una certa direzione una curva verso destra magari arrivando in condizioni limite beh in realtà ci pensa anche il controllo di stabilità dell'auto a creare un momento angolare magari pensando una ruota posteriore destra se stiamo facendo una curva destra per dare ancora più direzionalità all'auto e tutti questi controlli non sono invasivi anche perché è regolabile la quantità di intervento di questi controlli ma riescono a rendere questa macchina estremamente affilata una macchina che quindi può essere estremamente sportiva pronto pista può essere sport può essere comfort e si sente immediatamente il cambio di anima di questa vettura la macchina inizia a filtrare bene tutte le asperità dell'asfalto inizia a copiarlo bene non saltella più ed è una macchina che quindi riesce anche a farci viaggiare comodi per lunghi viaggi anche grazie a una suite di tecnologie che ci permette una guida assistita non dico autonoma però di secondo livello avanzato e una guida che non crea problematiche anche per lunghi viaggi perché tutto viene avvattato e tutto è molto molto tranquillo per quanto riguarda i consumi in media siamo sempre su 10 chilometri litro andando a velocità costante su velocità inferiore a 130 chilometri orari facciamo ben di più arriviamo fino a 15 chilometri litro però dipende sempre dall'utilizzo dell'auto ed è sicuramente su una golf gt diciamo che 10 chilometri litro sono una buona media anche perché è un'auto estremamente divertente che ti porta a cercare un po di divertimento alla guida non ci sono altre cose da segnalare se non che è un'auto completamente rinnovata ed è un'auto che forse rispetto agli step che ci sono stati tra la sesta e la settima generazione beh qua si sente veramente tanto la differenza e lo si sente alla guida ed è una cosa che non mi sarei aspettato di percepire in modo così evidente quindi un'auto estremamente giusta e trattata alla perfezione lato guida è un'auto che mi ha sorpreso in conclusione golf gt rimane fedele a se stessa a discapito del percorso intrapreso dalle sue concorrenti che tendono ad azzardare forse anche un po troppo lei rimane fedele a se stessa rimane un attimino a suonare in sordina ma rimane un'auto estremamente concrete che continuerà a piacere a tante persone perché lei sa il fatto suo e lei è una vettura che è migliorata stranamente per quanto riguardi il salto generazionale tantissimo rispetto alla generazione precedente forse è stato il più grande step a livello di prestazioni di migliorie nelle ultime generazioni di golf una vettura che mi è piaciuta veramente tanto a livello di guida è una macchina che si guida estremamente bene e si riesce veramente a toccare con mano tutto il lavoro che gli ingegneri volkswagen hanno fatto su questo modello un modello che continua a rimanere estremamente attuale un modello che continua a rimanere assolutamente sinonimo di quelle che sono le trazioni anteriori veloci e agili presenti sul mercato insomma un'auto che mi è piaciuta veramente tanto ma ora voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questa vettura ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video sempre su automoto ciao